Il FAI insieme al Comune di Atri e ad Evelina che appoggia questa iniziativa abbiamo organizzato questi eventi proprio per valorizzare gli artisti abruzzesi nel mondo e speriamo che abbiano tanto successo di più di quello che già naturalmente hanno. Il primo appuntamento è di Piero Mazzocchetti che è una voce meravigliosa, Duccio, Debona Sbei che è la campionessa di pattinaggio artistico, Maurizio Rolli il bassista, la scrittrice Valentina Di Cesare e Daniela Musini che finisce e chiude la manifestazione. FAI incontri che si terrà ad Atri nel teatro comunale, ci tengo a dire tutti gratuiti questi appuntamenti per le persone che decideranno di venire ad ascoltare queste interviste pubbliche e anche magari togliersi le curiosità perché ci sarà lo spazio anche per un'intervista un po' partecipata con le persone che saranno presenti. Quindi sarà un'occasione per conoscere anche un po' meglio e più da vicino queste personalità si comincerà con Mazzocchetti come dicevo che presenterà il suo ultimo disco proprio uscito il 20 di aprile, si intitola Istanti, quindi parleremo con lui, ascolteremo anche la sua voce e poi andremo avanti fino all'ultimo appuntamento che ci sarà l'ultimo venerdì di luglio, sono sempre dei venerdì questi incontri dove appunto conosceremo Daniela Musini che reciterà anche una bella situazione quindi sarà una bella sorpresa per tutte le persone che amano l'arte, la letteratura e il teatro e anche D'Annunzio perché lei è proprio la madrina di D'Annunzio insomma porta avanti la sua arte, l'arte di questo grande evate.